Buon pomeriggio, ben ritrovati delle spettatori di Pronto Dottore. Oggi ci occupiamo di tiroide e in studio con me il professor Francesco Giorgino, ordinario della cattedra di endocrinologia dell'Università degli Studi di Bari e nonché direttore dell'unità operativa complessa dell'endocrinologia appunto del Policlinico di Bari. Buon pomeriggio dottore, ben ritrovato. Buon pomeriggio. Allora, oggi parliamo di tiroide. Io vorrei subito girarle una richiesta che ci è arrivata via mail. Ci chiedono perché quando la tiroide è su di giri provoca tachicardia? Ecco, le giro subito questa bella domanda e così insomma contentiamo questa nostra telespettatrice che ci ha mandato una mail, forse perché non ha voluto chiamare. Certo. La tiroide può essere su di giri per una condizione, una malattia che si chiama ipertiroidismo che porta la tiroide a produrre una quantità superiore alla norma degli ormoni tiroidei che sono il prodotto del funzionamento di questa ghiandola endocrina. E quindi ci troviamo in una situazione in cui vi è un eccesso nel sangue, nell'organismo di ormoni tiroidei. L'eccesso di ormoni tiroidei può produrre una serie di conseguenze, di effetti su vari organi, apparati, su varie parti del nostro corpo e sicuramente l'apparato cardiovascolare è tra quelli che vengono colpiti più frequentemente e in maniera anche più evidente. In particolare l'eccesso di ormoni tiroidei fa aumentare la frequenza cardiaca che normalmente è intorno a 70 battiti al minuto e che nella persona che ha un ipertiroidismo, quindi una tiroide che è su di giri, supera solitamente i 100 battiti al minuto. Quindi si ha da un lato obiettivamente un aumento della frequenza cardiaca che viene percepita dal paziente come sensazione di palpitazione, di cardiopalmo che non è altro che appunto l'avvertire un cuore che batte troppo in fretta. Qualche altra volta per la verità si può anche avere un episodio di aritmia. Quindi non soltanto un'accelerazione della frequenza cardiaca ma anche la comparsa di un battito cardiaco che non si verifica con la consueta regolarità e quindi extrasistoli, quindi battiti precoci, atipici o anche un'aritmia un po' più sostenuta come per esempio la cosiddetta fibrillazione atriale che in una percentuale di pazienti che hanno questo disturbo del ritmo cardiaco può essere effettivamente ascritta, può essere dovuta a una condizione di perfunzione tiroidea. Di qui anche l'indicazione dei beta bloccanti? Sì perché in realtà il meccanismo con cui gli ormoni tiroidei producono questa accelerazione del battito cardiaco coinvolge le catecolamine, la adrenalina, la noradrenalina la cui sensibilità da parte dell'organismo viene esaltata e quindi il farmaco più idoneo per bloccare questa manifestazione è il beta bloccante che non è altro che un farmaco che impedisce alle catecolamine di attivare la frequenza cardiaca. Bene, intanto io voglio ricordare, lo vedevo poco fa in sovrimpressione il numero a cui potete chiamare 800-098-729 Professore, come mai nel malfunzionamento della tiroide c'è un rapporto maschi-femmine di circa 1 a 10? Cioè che mi sembra, come dire, è vero che la donna ha un bioritmo tutto particolare eccetera, ma 1 a 10 è veramente importante come differenza? Le donne in questo caso sono più sfortunate Per la verità va detto che molte malattie cosiddette autoimmunitarie sono più a pannaggio del sesso femminile che del sesso maschile e nel caso della tiroide alcuni disturbi della tiroide tra cui l'ipertiroidismo riconoscono spesso una matrice autoimmunitaria quindi il sistema immunitario attacca la tiroide come se fosse un bersaglio esterno al nostro corpo da colpire, in realtà non è altro che una ghiandola del nostro corpo che svolge tra l'altro una funzione fondamentale e quindi produce cellule del sistema immunitario dirette contro la tiroide anticorpi contro la tiroide e questo meccanismo è più frequente nelle donne rispetto agli uomini peraltro va anche detto che nel caso di una di queste malattie autoimmunitarie per esempio la tiroidite di Hashimoto o tiroidite cronica autoimmune questa reattività particolare, esagerata, certamente patologica del sistema immunitario colpisce non soltanto più frequentemente le donne ma anche più frequentemente le donne dopo la menopausa per cui si arriva a una prevalenza di anticorpi contro la tiroide nel quadro di questa tiroidite che addirittura sfiora il 10% delle donne dopo i 50 anni quindi non solo vi è un rischio maggiore per la donna di contrarre queste patologie ma poi in alcune fasce di età in termini di numeri oggettivi che quantificano il problema dal punto di vista della sua diffusione nella popolazione e questi numeri raggiungono dei livelli anche impressionanti Abbiamo una telefonata? Pronto? Pronto, buongiorno, sono una signora io sono stata operata di tiroide, non ho più la tiroide supplisco con le pillole, il tiroide accendo accendo a seconda dei risultati la mia vita, cioè i miei organi nella vecchiaia saranno indeboliti, succederà qualcosa o porto una vita tranquilla? Grazie Grazie, è una domanda molto importante perché naturalmente nasce dalla percezione che è assolutamente legittima che togliendo un'intera ghiandola dal nostro corpo possa succedere qualcosa che non è facilmente riparabile o si possa perdere una funzione, un'attività che non è sostituibile in alcun modo In realtà nel caso della tiroide questo non è vero perché la funzione della tiroide per fortuna può essere direi sostituita in maniera facile o relativamente facile appunto attraverso l'assunzione del farmaco che la signora ha menzionato che è la tiroxina, la levotiroxina che non è altro che l'ormone che la tiroide normalmente produce e questo ormone è importante che venga assunto ogni giorno nella giusta dose quindi ciò che è importante perché la signora e tutte le persone che hanno questo problema possano star bene possano non avere nessuna altra patologia o conseguenza negativa sull'organismo è che questo ormone venga assunto nella giusta dose e questo è facile stabilirlo sia valutando il benessere del paziente che è sottoposto a questa terapia sia soprattutto gli ormoni circolanti e il livello del TSH nel sangue Bene, abbiamo un'altra telefonata mi dico dalla regia Pronto? È pronto Buonasera Buonasera a lei Professore, desidero farle una domanda la chiamo della provincia di Bari praticamente ho una tiroide affetta da numerosi notoli però i miei ormoni tiroidei sono tutti ancora nella norma lei ritiene se opportuno cominciare la terapia perché secondo il mio endocrinologo l'ideale sarebbe cominciare la terapia con l'Eutirox Grazie Buonasera Grazie a lei Buonasera Quindi è una condizione particolare È una condizione particolare ma anche relativamente comune il problema che pone la signora è molto importante è anche oggetto di qualche riflessione tra noi specialisti perché la signora ha dei noduli tiroidei ma ha una funzione della tiroide perfettamente normale Quindi i valori Come è possibile? E questo infatti il primo messaggio è che molto spesso alterazioni della struttura della tiroide con la presenza per esempio di noduli non si associano a alterazioni della funzione della tiroide in senso di ipertiroidismo o di ipotiroidismo e viceversa cioè noi possiamo avere delle tiroidi esenti da noduli che funzionano troppo poco o in maniera eccessiva Questo dal punto di vista terapeutico è meglio o peggio? Ma dal punto di vista terapeutico come magari diremo fra un attimo i problemi vanno comunque affrontati direi uno alla volta quindi dobbiamo preoccuparci prima di capire se occorre effettuare un trattamento per i noduli e poi prima una o poi l'altra cosa indifferente e naturalmente preoccuparci di una eventuale alterazione della funzione della tiroide però il problema che pone la signora è un problema che fa riferimento ad un approccio che è stato utilizzato per lunghi anni e cioè mettere a riposo la tiroide fornendo dall'esterno l'ormone che la tiroide è chiamata a produrre e in questo modo cercare di ottenere una riduzione o una mancanza di crescita dei noduli presenti nella tiroide quindi questo concetto, la cosiddetta terapia soppressiva si assume l'ormone tiroideo anche in quantità un po' superiore rispetto a quello che occorre in maniera da ridurre lo stimolo dell'ipofisi sulla tiroide sfruttando dei meccanismi di regolazione che sono naturalmente presenti in natura in questo caso potrebbe consentire una riduzione del volume dei noduli tiroidei ora però questa terapia col tempo e soprattutto negli ultimi anni è stata ridimensionata per due motivi primo perché facendo questo si possono anche produrre degli effetti collaterali quindi se noi diamo un eccesso di ormone tiroideo per mettere a riposo la tiroide possiamo soprattutto nelle persone un po' più in avanti negli anni la signora che ha chiamato mi sembra giovane ma naturalmente non conosco l'età possono indebolire le ossa, possono favorire la osteoporosi e possono anche alterare il cuore con per esempio la induzione di aritmie ne parlavamo poco fa quindi occorre bilanciare i possibili benefici con questi effetti collaterali che sono molto frequenti il secondo motivo è che il beneficio che noi andiamo cercando in questo caso quale sarebbe? quello di ridurre dei noduli di qualche millimetro? non so se è un beneficio che vale tutti i vari rischi di come ho parlato vale la pena di perseguire a fronte dei rischi che si possono produrre perché quello che occorre che noi facciamo è sapere se questi noduli sono benigni e nel momento in cui lo fossero seguirli naturalmente anche con l'ecografia quindi il discorso della terapia soppressiva si è notevolmente ridimensionato non dico che non debba essere fatta in nessun caso però certamente viene effettuata meno frequentemente rispetto al passato peraltro la risposta a questa terapia non si verifica in tutti i soggetti ma soltanto in un terzo dei soggetti quindi questo rende ancora meno allettante l'ipotesi di effettuare una terapia con tiroxina perfetto è stato assolutamente chiaro noi professore siamo in chiusura però l'unica cosa che le chiedo in pochissimo tempo so che lei ha i tempi televisivi anche lei quali sono i sintomi a cui bisogna dare più attenzione sul malfunzionamento della tiroide qualora non si sapesse di avere questo tipo di patologia allora per l'ipertiroidismo fare attenzione alle palpitazioni alla perdita di peso nonostante che le abitudini alimentari rimangano costanti alla stanchezza, alla sudorazione eccessiva, all'intolleranza al caldo al nervosismo, all'insonnia ecco questi sono i sintomi che dovrebbero indurre a pensare o comunque a verificare se vi è per caso una condizione di ipertiroidismo quindi sono dei sintomi che si verificano e si evidenziano con una certa facilità invece l'ipotiroidismo può essere più subdolo e più difficile da scoprire la persona che ha una ridotta funzione della tiroide, cioè un ipotiroidismo anche questa persona avverte astenia può avvertire anche difficoltà a concentrarsi soprattutto nel lavoro intellettuale che si svolge sul posto di lavoro in altro modo e un'altra possibilità, un altro sintomo che si avverte anche con una certa frequenza è l'intolleranza questa volta al freddo, non al caldo ma al freddo la tendenza magari a non perdere peso se si effettua una dieta dimagrante e la stitichezza questi sono un po' i sintomi dell'ipotiroidismo a cui fare attenzione Bene, benissimo allora state attenti a questi campanelli d'allarme io vi do appuntamento a domani con pronto dottore sempre alle 15 continueremo in qualche modo a parlare di tiroide perché parleremo di chirurgia della tiroide domani quindi appuntamento come sempre alle 15 arrivederci, grazie professore Grazie a lei